salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme queste graziosissime tartarughine che mi avete richiesto in tantissime e utilizzeremo la tecnica tapestry per fare il guscio prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok dove anticiperò ciò che ciò che poi porterò qui sul canale e faremo insieme dei sondaggi per decidere i prossimi progetti se il video vi piace lasciate un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone ighi giallo bianco e beige lavorerò con uncinetto numero 3 poi avrò bisogno un marca punti un ago delle forbici ovatta per imbottire e delle perline per gli occhietti iniziamo con il giallo per realizzare il guscio della nostra tartaruga quindi facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo una catenella e all'interno del cerchio lavoriamo 6 maglie basse 2 3 4 5 e 6 tiriamo la codina del cerchio stringiamo rientriamo nella solina e ci chiudiamo nel primo punto che abbiamo fatto prendendo mi raccomando tutte e due le asoline con maglia bassissima quindi facciamo passare la maglia all'interno di tutte e due le asoline così ci realizziamo con una catenella entriamo nello stesso punto e ci lavoriamo due maglie basse nello stesso punto e così faremo in tutti gli altri punti dobbiamo lavorare due maglie basse per ogni punto alla fine ci ritroveremo con 12 maglie basse arrivati qui alla fine ci chiudiamo nella prima maglia che abbiamo fatto con maglia bassissima catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo e stringiamo prendiamo il cotone bianco lo mettiamo in corrispondenza ed entriamo qui nell'ultimo punto facciamo una catenella e una maglia bassa nello stesso punto tiriamo la codina e stringiamo il punto ora queste due codine ce le lavoreremo quindi le sigilleremo con la lavorazione nel punto successivo lavoriamo due maglie basse quindi ora faremo una maglia bassa più un aumento la prima maglia bassa aumento nella successiva lavoreremo la maglia bassa nella seguente lavoreremo l'aumento prima di continuare tagliamo le codine così non ci daranno più fastidio e continuiamo così fino ad arrivare qui alla fine una maglia bassa aumento maglia bassa aumento fino alla fine arrivati all'ultimo punto entriamo nel primo punto ci chiudiamo con maglia bassissima ci realizziamo con una catenella entriamo nello stesso punto e qui dobbiamo fare il primo punto basso che ci dobbiamo chiudere perché iniziamo la nostra tecnica con il giallo ho fatto un piccolo cappietta al giallo guardate lo prendo e mi chiudo direttamente faccio passare nelle asoline bianche il primo punto bianco l'abbiamo fatto in questo giro dobbiamo fare due maglie basse più una un aumento quindi la prima maglia bassa facciamo la seconda e facciamo l'aumento quindi abbiamo questa codina portandoci dietro mi raccomando il bianco facciamo il primo la prima maglia bassa e l'aumento che dobbiamo chiudere però col bianco perché dobbiamo ripassare al bianco quindi la chiusura la faremo in questo modo prendendo il filo dalla parte di sotto questo è un piccolo trucchetto per venire il per venire il cambio colore più definito quindi facciamo passare il filo bianco entriamo nel punto successivo col bianco però dobbiamo fare le strisce quindi dobbiamo chiudere col giallo allineiamo di questa parte guardate il cotone bianco e prendiamo il giallo che è di qua così non si arricciano i fili e allo stesso modo prendendolo da sotto prendiamo il giallo e lo facciamo passare qui dobbiamo fare come abbiamo fatto nella prima sezione una maglia bassa e l'aumento quindi facciamo la prima maglia bassa mi raccomando portatevi dietro il bianco facciamola l'aumento quindi una maglia bassa e nella seconda maglia ci dobbiamo chiudere con il bianco lasciamo il giallo prendiamo il bianco il giallo lo facciamo passare di sotto chiudiamo entriamo nel punto successivo col bianco che però chiuderemo col giallo una maglia bassa l'aumento 12 però chiuso col bianco così entriamo nel punto seguente col bianco e nella nostra prima maglia bassa chiudiamo col giallo e facciamo la nostra seconda maglia bassa più l'aumento 1 e 2 dobbiamo cambiare colore quindi prendiamo il bianco e chiudiamo col bianco e così via fino ad arrivare alla fine arrivati alla fine siamo qui all'ultimo punto dobbiamo chiuderci col bianco ed entrare direttamente nel primo punto che abbiamo fatto portandoci dietro il giallo e poi chiudendoci col giallo questo punto ora lo marcheremo perché da qui in poi parte la nostra lavorazione a spirale quindi marchiamo il punto che il primo in questo giro come avete visto comunque abbiamo creato 6 sezioni in questo giro dobbiamo lavorare 3 maglie basse più un aumento quindi la prima l'abbiamo fatta che è la maglia bassa bianca facciamo la seconda col sempre col giallo facciamo la terza e qui nella seconda maglia dell'aumento dobbiamo sempre fare l'aumento quindi non vi potete sbagliare quindi facciamo 1 e 2 non chiuso perché ora c'è guardate la striscia bianca dobbiamo cambiare col bianco chiudiamo col bianco entriamo nella striscia bianca e ci chiudiamo col giallo e qui facciamo la stessa cosa abbiamo fatto alla prima maglia e facciamo la seconda la terza e nell'ultima maglia quella dell'aumento facciamo l'aumento quindi una maglia e la seconda maglia dell'aumento la chiudiamo col bianco entriamo nel bianco e lo chiudiamo col giallo quindi allineiamo questo filo e prendiamo l'altro e così via facciamo sempre questa lavorazione fino ad arrivare alla fine siamo arrivati all'ultimo aumento che chiuderemo col bianco però sganciamo il nostro marca punti ci chiudiamo col bianco entriamo nel bianco e ci chiudiamo nuovamente col giallo e questo è sempre il nostro primo punto che dobbiamo rimarcare e qui in questo giro dobbiamo fare quattro maglie basse più un aumento abbiamo fatto la prima con la maglia bassa bianca facciamo la seconda la terza la quarta e qui nel punto dell'aumento nel secondo punto rifacciamo un aumento quindi prima maglia e la seconda chiusa col bianco perché dobbiamo continuare la striscia bianca entriamo nel bianco e ci chiudiamo direttamente col giallo prendendolo sempre da sotto e qui lavorere se lavoreremo sempre maglia su maglia e nell'ultima maglia gialla dobbiamo fare l'aumento quindi una maglia e l'aumento che chiuderemo col bianco facciamo la maglia bianca che chiuderemo col giallo e continuiamo così fino alla fine arrivati all'ultimo punto ci chiudiamo col bianco sganciamo il marca punti entriamo nel punto bianco e ci chiudiamo col giallo questo lo allineano e prendiamo il giallo così chiudiamo e rimarchiamo il punto qui dobbiamo lavorare 5 maglie basse più un aumento quindi la prima l'abbiamo lavorata lavoriamo la seconda la terza la terza la quarta la quinta e qui nell'ultima maglia facciamo l'aumento 2 maglie nello stesso punto l'ultima la chiudiamo direttamente col bianco entriamo nella maglia bianca e facciamo la prima maglia dell'altra sezione quindi contiamo 1 l'abbiamo fatta 2 3 4 5 più un aumento nell'ultima maglia gialla un punto è un altro punto non chiuso e chiuso col bianco e continuiamo così questo è l'ultimo giro degli aumenti voi poi potete decidere se farla più grandetta e continuerete con 6 punti più un aumento 7 punti più un aumento oppure di farla come sto facendo io e di queste dimensioni quindi continuiamo questa lavorazione fino alla fine e ora ci ritroveremo a fare un giro maglia su maglia quindi sganciamo il marca punti entriamo con il bianco nel primo punto e ci chiudiamo sempre col giallo e qui facciamo punto su punto quindi non dobbiamo fare aumenti quindi ci lavoriamo il primo l'abbiamo lavorato 1 2 3 4 5 6 e 7 quindi 7 per sezione prendiamo il bianco ci chiudiamo col bianco facciamo sempre la maglia bianca sulla maglia bianca ci chiudiamo col giallo e lavoreremo sempre punto su punto così fino ad arrivare qui alla fine arrivati qui alla fine ci chiudiamo direttamente prima del marca punti col giallo le abbiamo in marca punti prendiamo il giallo e facciamo una maglia bassissima nel punto marcato una catenella una catenella e qui punto su punto iniziamo a fare una maglia bassissima per ogni punto che abbiamo fatto solo col giallo quindi abbiamo lasciato il bianco guardate e proseguiamo col giallo quindi una maglia bassissima per ogni punto fino ad arrivare alla fine arrivati qui alla fine entriamo nello stesso punto iniziale facendo l'ultima maglia bassissima così e abbiamo terminato il guscio della nostra tartaruga come vedete con questa tecnica già viene comunque abbastanza abbombato quindi è bastato solo un giro di punto su punto però già la forma comunque l'ha ottenuta con la lavorazione tagliamo il filo facciamo una catenella aggiuntiva e tagliamo il filo lo stringiamo e ora nella parte sotto lo nascondiamo fra le maglie questo bianco lo possiamo tagliare questo lo possiamo accorciare e questo lo nasconderemo fra le maglie terminato il nostro guscio lo mettiamo da parte e dobbiamo fare la parte sotto questa che la facciamo sempre con il beige che è il colore della tartarugina questo è molto semplice da fare le inizieremo insieme però la continueremo da soli perché si tratta di raggiungere gli stessi aumenti che abbiamo fatto qui per il guscio quindi dobbiamo iniziare col cerchio magico e 6 maglie basse dentro il cerchio e poi faremo una lavorazione a spirale direttamente 4 5 e 6 stringiamo la codina entriamo nel primo punto qui prendiamo il filo e lavoriamo direttamente la prima maglia bassa e la marchiamo così lavoriamo sempre nello stesso punto la seconda maglia bassa quindi ora facciamo nel primo giro due maglie basse per ogni punto e avremo in totale 12 maglie basse arrivati qui alla fine sganciamo il marca punti entriamo nel punto marcato poi rifacciamo la maglia bassa che è la nostra prima maglia bassa e qui dobbiamo fare una maglia bassa più un aumento nel giro successivo nel giro successivo 2 maglie basse più un aumento 3 maglie basse più un aumento 4 maglie basse più un aumento e alla fine 5 maglie basse più un aumento dobbiamo fare questi giri senza fare il giro finale che abbiamo fatto per il guscio solo arrivando a 5 maglie basse più un aumento quindi facciamolo da solo e ci rivediamo al termine della lavorazione fatti i nostri giri nella lavorazione mi sono fermata qui perché qui ho fatto l'ultimo aumento ora lavoriamo sempre le nostre 5 maglie basse 3 4 e 5 prima di fare l'aumento in questo punto facciamo una maglia bassa 2 catenelle filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta non chiusa sempre nello stesso punto facciamo la seconda e la terza chiudiamo tutto insieme facciamo sempre due catenelle ed entriamo nello stesso punto facendo una maglia bassa leviamo il marca punti e nel punto marcato facciamo una maglia bassissima e abbiamo creato la codina della nostra tartaruga direttamente con la parte sotto catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo però qui lo dobbiamo tagliare molto più lungo perché da questo punto noi cuciremo tutta la tartarugina ho lasciato questo pezzo di filo guardate per la cuscitura poso la parte sotto vicino al guscio riprendo il beige e siamo pronti per fare la testa della tartaruga quindi facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo una catenella e dentro il cerchio lavoriamo cinque maglie basse uno due tre quattro e cinque stringiamo la codina entriamo nel primo punto che abbiamo lavorato qui prendendo tutte e due le asoline prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa e la marchiamo continuiamo facendo un'altra maglia bassa nello stesso punto e un aumento per ogni punto quindi due maglie basse per ogni punto che abbiamo a disposizione in questo caso dovremmo avere cinque punti e alla fine dobbiamo avere dieci maglie basse e qui siamo nona e decima maglia sganciamo il marca punti entriamo nel punto marcato e facciamo sempre una maglia bassa lo rimarchiamo e qui dobbiamo fare una maglia bassa più un aumento la prima maglia bassa l'abbiamo fatta nel secondo punto faremo un aumento nel punto successivo una maglia bassa un aumento nel punto seguente fino ad arrivare alla fine in tutto dobbiamo avere quindici maglie basse ricordatevi che nella maglia prima del marca punti viene fatto sempre l'aumento sganciamo sempre il marca punti e ora dobbiamo fare tre giri completi di maglia su maglia quindi marchiamo sempre il primo punto e ci lavoriamo tre giri di quindici maglie basse per giro e ci rivediamo dopo averli lavorati dopo aver fatto tre giri di quindici maglie basse quindi punto su punto sganciamo il marca punti e iniziamo a fare il primo giro di diminuzione quindi entriamo nel marca punti e facciamo sempre la maglia bassa e dobbiamo fare una maglia bassa e una diminuzione quindi prendiamo asolina esterna e asolina esterna facciamo passare il filo e chiudiamo poi poi facciamo una maglia bassa asolina e asolina facciamo passare il filo e chiudiamo maglia bassa quindi dobbiamo ritornare a 10 punti a 10 punti finali continuiamo a fare questo giro di diminuzioni e qui abbiamo gli ultimi due punti prima del marca punti ed è la diminuzione a questo punto prendiamo l'imbottitura e cominciamo a imbottire la nostra testa tiriamo un pochino la solina la cutina iniziale la mettiamo sempre all'interno prendiamo l'imbottitura e la inseriamo perché ora con l'altro giro di diminuzione si stringerà il foro e ci verrà complicato poi a imbottirla ok imbottita sganciamo il marca punti teniamo guardate un dito all'interno dell'imbottitura e riprendiamo la lavorazione iniziamo subito a fare la diminuzione quindi facciamo asolina e asolina e facciamo il primo punto contiamoli insieme e dobbiamo ottenere cinque punti facciamo il secondo punto quindi asolina e asolina secondo punto facciamo il terzo il quarto il quarto e l'ultimo infatti abbiamo qui le ultime due asoline quindi prendiamo uno uno e due e facciamo l'ultimo abbiamo terminato la lavorazione della testa entriamo nel primo punto utile e facciamo un giro di una maglia bassa per punto quindi ce ne dobbiamo ritrovare cinque quindi questo è il secondo il terzo il quarto e il quinto non vi preoccupate se la lavorazione non viene perfetta perché questo ci darà ci verrà più facile poi per la cucitura perché questo è il pezzo che verrà poi nascosto nella cucitura catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo e stringiamo e qui abbiamo creato la nostra testa che mettiamo sempre qui insieme agli altri pezzi ora dobbiamo fare le zampette quindi sempre cerchio magico entriamo con l'uncinetto una catenella e sei maglie basse dentro il cerchio due tre quattro cinque e sei stringiamo la codina e qui non facciamo una lavorazione a spirale ma chiudiamo nella prima maglia con maglia bassissima quindi prendiamo sempre le due soline della prima maglia facciamo passare il filo lo facciamo passare in tutte e due le soline una catenella entriamo nello stesso punto e lavoriamo una maglia bassa nel punto successivo lavoriamo due maglie basse nel punto seguente ne lavoriamo una nel successivo due una e nell'ultimo punto due alla fine ci ritroveremo con nove maglie basse chiudiamo sempre nella prima maglia ci chiudiamo con maglia bassissima prima di continuare tagliamo la codina pieghiamo la lavorazione in due così questo deve essere nella parte laterale rientriamo con l'uncinetto entriamo nel primo punto utile mi raccomando mi raccomando stringete la l'asolina che avete sull'uncinetto prendiamo il filo e lo facciamo passare direttamente nell'asolina con maglia bassissima entriamo nel secondo punto quindi prendiamo uno da una parte uno dall'altro facendo così una cucitura facciamo il secondo punto facciamo il terzo e facciamo l'ultimo sempre con maglia bassissima catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo stringiamo e questa è la le zampette della nostra tartaruga ne dobbiamo fare in tutto 4 entriamo e nascondiamo subito il filo perché poi questo lo inseriremo la inseriremo nella cucitura quindi questo filo lo possiamo già nascondere come vedete la parte dritta della lavorazione dove vedete le catenelle delle maglie bassissime quindi basta farlo arrivare della parte dietro e lo possiamo tagliare qua ci sono le zampette e io ho preparato già le altre quindi abbiamo tutto siamo pronti per cucire la nostra tartaruga siamo pronti a cucire la nostra tartaruga quindi abbiamo tutti i pezzi quello che uscirà tutti i pezzi è la parte sotto quindi ho già inserito l'ago qui come vedete ci sono gli aumenti hanno delineato le sei parti una parte per la coda le parti laterali per le zampette e la parte di fronte alla coda e per la testa mettiamo a rovescio questa lavorazione perché il dritto deve stare nella parte che si vede e appoggiamo nella parte sopra il guscio qui dove c'è la parte finale la mettiamo qui dove c'è la coda così come vedete anche le strisce corrispondono agli aumenti quindi ci possiamo regolare per bene ora vi farò vedere anche come fare per essere ancora più precisi dopo che abbiamo sistemato il tutto siamo pronti per iniziare la cucitura superata la parte della coda ora rientriamo nella maglia prendiamo le due costine nella parte sotto e una costina nella parte di sopra del giallo di nuovo due costine e una costina e stringiamo due costine e una costina ci dobbiamo fermare per l'inserimento della prima zampetta al punto prima questo qua è il punto precedente a quello bianco quindi continuiamo qui dove siamo arrivati sempre cucendo questa parte siamo arrivati guardate al punto precedente prendiamo una zampetta e la dobbiamo posizionare con la cupola verso l'alto quindi qui verrà la testa così la inseriamo e devono fuoriuscire su quattro punti che abbiamo fatto due punti due tre punti massimo però due punti entriamo in per sigillarla quindi entriamo qui nel secondo punto ok lo inseriamo dalla parte dietro prendendo il punto sano così così la sistemiamo sempre nella parte sotto ok e stringiamo la lavorazione in questo modo quindi dietro guardate prendiamo i due punti entriamo dall'altra parte e qui ci prendiamo la costina del giallo così ok così ora entriamo qui e sempre ne prendiamo cerchiamo comunque di affrancarla per bene e continuiamo la nostra lavorazione normalmente siamo arrivati a questo punto prendiamo il primo punto utile e continuiamo così abbiamo già inserito comunque la prima zampetta continuiamo la lavorazione fino ad arrivare all'inserimento della seconda e poi dobbiamo continuare per tutti i pezzi in questo modo sempre fino al punto precedente quello bianco quindi continuiamo facciamo così siamo arrivati al punto precedente l'abbiamo lavorato prendiamo l'altra la mettiamo dal lato dritto dove si vedono le catenelle e la sistemiamo sempre nella stessa posizione della prima così qui ci inseriamo nella lavorazione passiamo dalla parte dietro qua sempre dalla parte dietro e ci inseriamo nella costina del giallo così qui entriamo sempre prendendo la lavorazione mi raccomando mi raccomando dobbiamo sbucare però sempre prendendo la catenella sotto così così continuiamo la lavorazione fino ad arrivare qui dove inseriremo la testa arrivata sempre un punto prima del bianco prendo la testa la inserisco all'interno guardate questo pezzo di lavorazione è quella che non si vedrà perché sarà inserito all'interno e comincio la cucitura della testa quindi comincio ad inserirla mi raccomando dobbiamo prima ci inseriamo ci inseriamo da questa parte e dopo prendiamo il punto e entriamo nella testa così questa è la parte che dove dobbiamo arrivare e qui prendiamo la costina quella prima del bianco così così tiriamo il filo stringiamo qui entriamo nella costina del bianco entriamo nella testa ed entriamo dalla parte dietro prendendo qua guardate tutto il punto ok stringiamo per bene qui entriamo anche qui nella parte laterale prendiamo il punto successivo a quello bianco e facciamo passare ancora per fissare la testa dopodiché iniziamo nuovamente la nostra lavorazione prendiamo tutto il punto e prendiamo la costina proprio nella parte laterale proprio nella parte laterale avete visto? abbiamo fissato la testolina poi continuiamo così e facciamo nel punto precedente quello bianco fissiamo l'altra zampetta e la stessa cosa facciamo qui e ci rivediamo al lavoro terminato quello che vi volevo dire prima di terminare sono arrivata qui guardate mettete dal dritto la cupoletta con le catenelle che si vedono e il sopra deve essere sempre vicino alla testa quindi la sistemiamo in questo caso in questo modo in corrispondenza devono essere uguali da una parte e dall'altra continuiamo la cucitura e ci rivediamo quando abbiamo terminato il tutto prima dell'inserimento dell'ultima zampetta prendiamo l'ovatta e riempiamo da questo da questa parte la nostra tartaruga quindi la inseriamo all'interno e a vostro piacimento la potete riempire di più o di meno così cercate con le mani di farla arrivare in tutti i punti così non verrà qualche parte più vuota ne inserirò un altro pezzetto ok va bene così ora posso inserire l'ultima zampetta quindi la prendo guardo la parte dritta la posiziono sempre così e inizio la cucitura dell'ultima zampetta entriamo e entriamo anche nella parte dietro entriamo qui davanti e nella solina qui qui ok sistemate l'imbottitura ok e ultimiamo la nostra cucitura dopo aver terminato la cucitura facciamo passare il filo all'interno della lavorazione così lo possiamo tagliare ok la nostra tartarughina sistemiamo la coda l'imbottitura le zampette essendo il sotto bombato le potete scendere per sotto guardate sistemiamo il tutto inseriamo gli occhietti e abbiamo terminato questo ecco facciamo così abbiamo terminato la nostra tartarughina la nostra tartarughina la nostra tartarughina è pronta ho inserito gli occhietti guardate che sono belline le potete fare veramente di tutti i colori perché sono veramente simpatiche e spero che vi sia piaciuto questo progetto veramente mi avete richiesto in tantissime quindi c'è voluto un po' di tempo ma piano piano cerco anche di esaudire ogni vostra richiesta spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciate un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulle mie pagine facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video